ciao 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 qua c'è Aldo che dorme saluta Aldo povero un po' influenzato siamo qua nel nostro mega hotel e stasera c'è la data le folie scandale questo sono io che mi guardo il dato numero 3 ecco siamo qua questo sono io ciao ciao adesso andiamo a vedere l'altra camera qui dove sono i ballerini ci siete? prego oh ciao ma cos'è tutto buonasera mamma con lo stravaccamento mamma che pose infime e questa è l'altra camera fa vedere il bagno ragazzi come no pop star hotel tour con l'idromassaggio cos'è? come la come la la brizzi questo è la ile questo è il c***o della ile no perché c'è l'altro ballerino che è rimasto da solo in una camera tutta per lui adesso andiamo a trovarlo che figa dai su 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 vieni 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 dai vieni anche tu su se questo si mette a fare la maggiorette io c'ho un piastrino piccolo per i miei ciuffi vedi ciuffi dai andiamo si te la presto dopo il nostro mega hotel fighissimo che bello che cosa? presto ma noi entriamo da merito e non lo ancora non lo sanno no presto che ce la come siamo belli mamma che brutta una gran figa mamma tu ma che lusso l'ha messo nella e ma non apri più? non è come? no ma in bagno non si dicono queste cose su youtube eh si sono cazzi vostri vabbè vipperemo sapientemente penso che sta la mamma su youtube mamma vabbè questa è la camera beh ragazzi chiudiamo perchè sennò il video dura tipo 6 minuti comunque ci vediamo stasera ciao 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 ci vediamo stasera alle fuori scandal di torino non mancate vi vogliamo numerosi e buonanotte ciao ciao ciao